Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Incisare Gello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna invece un chilometro di coda per lavori in direzione Firenze per veicolo in avaria in direzione Livorno. Cantieri di Firenze per operazioni di carico scarico in via del Lupo venerdì 22 ottobre in orario 9.17 in vigore di vieto di transito tra Lungarno Serri Stori e via di San Nicolò. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!